La provincia dell'Aquila cede al comune di Scanno la seggiovia di arroccamento, un percorso istituzionale che giunge al termine con grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale e con grande entusiasmo che accogliamo l'approvazione del Consiglio Provinciale della cessione al comune di Scanno della seggiovia di arroccamento Scanno Collerotondo insieme allo stanziamento di un investimento pari a 150.000 euro per le spese di manutenzione e revisione. Un passo importante per Scanno e il territorio secondo il vice sindaco del Borgo Lacustre Giuseppe Marone nell'ottica dello sviluppo turistico ed economico. Ringraziamo per questo il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso, l'intero consiglio provinciale conseguente alla richiesta che l'amministrazione aveva fatto per la risoluzione del contratto di comodato in essere dell'impianto e la cessione a titolo gratuito del contributo concesso.